Rincuorati dai risultati ottenuti dai filtri attivati da Arpav per volere della regione. Funzionano da una settimana e i FAS nell'acqua non ci sono più. Un primo risultato per i comitati del coordinamento acqua libera da IFFAS. Loro sono le voci della zona rossa, un'area estesa tra le province di Padova, Vicenza e Verona. Ora, dopo l'intervento della regione e del presidente Zaia, promosso a pieni voti, chiedono che anche il governo collabori per dare concretezza ai progetti fondamentali per la salute. Qua per far sentire la vostra voce? Sì, per quanto possibile sì. Una voce in questi giorni un po' smorzata per effetto delle ultime notizie riguardo l'abbassamento dei limiti. Però ci sono delle voci preoccupanti per quanto riguarda i progetti per i nuovi acquedotti. Sembra che non ci siano di fatto. Sembra che ancora non sia arrivato niente. Alle risposte avute dalla regione che con Arpav ha attivato i filtri nell'acquedotto Acqua del Chiampo, consentendo di raggiungere l'obiettivo FAS Zero, deve corrispondere anche a una risposta del governo che non può più lasciare solo il Veneto che ha bisogno degli acquedotti. Se passasse qua il ministro cosa gli chiederebbe? Se passasse qua il ministro gli chiederei innanzitutto se è disponibile ad accogliere le richieste fatte dalla regione per dichiarare lo stato di emergenza.